buongiorno 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 manca dieci minuti alle sei terzo giro della settimana oggi vado romagna e marche quattro consegni tre consegno ritiro fatto un quarto dell'acqua parma sono partite le tre mezza adesso metto in moto e siamo in moto e via che si va a dopo ciao bye buongiorno 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 Metri, uscita, poi, tenete, da destra. Pinole, ho già sentito che Floch vuole farmi fare un'altra strada. No, 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 andiamo sinistra da sinistra, piccio. Quattignola! Allora, prima. Tra 300 metri subito a sinistra, poi, girate a sinistra. Vedi, vedi che poi le imparo le strade. Girate a sinistra, poi, arrivo. Anch'io arrivo. Allora, prima te arrivo, prima io. Attenzione, sono arrivata qua nel primo posto. Però, per uno, le otto e mezza. E vabbè. Facciamo la pausa. Poi scarichiamo qua, un'altra affarenza. E poi si va ancora. Gioco con la penna. Vediamo un po'. Ci facciamo un po' di pennichella. No. Difficile. Mi guardo l'autostrada. C'è l'autostrada qua di fianco. Speriamo che arrivino un pochino prima. Qua c'è solo un bancale. Nell'altro posto ce n'è un po'. Ma qua ne ho uno solo. Non sono mai venuta qua. Ciao, vai. Ciao, ciao. Impostiamo Flock. Vediamo che strada vuol fare per andare a Farenza. E qua ci sono un po' di divietti. Vediamo se mi fa fare il giro che voglio fare io o no. Oh, signore. No, 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 ciccio bello. Guarda che giro vuol fare. Lui vuol tornare dall'autostrada. 21 chilometri. Io invece faccio così. Arriverai a destinazione alle 8.1. Vedi. Si torna indietro qua. Io cerco bene l'autostrada. Vado avanti. Scendo così. Così. Passo sopra l'autostrada e faccio questa strada qua. Un pochino più corta. Guarda. Girate a destra. Poi spostatevi sulla sinistra. Poi spostatevi. Poi spostatevi. Poi spostatevi. Let's go. E' un pochino più corta. Cora. Se sicuro vediamo il pronto. Sicuro se cosa si dovrà. Sicuramente no. L'autobato qua. Alla stessa. Di stare a perché c'è. Musica 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 Belli! C'è la colonia dei gatti qua! Sono senza coda come la mia questo qua davanti Miaoo Guarda Come la mia panna Uguale senza la codina Che carino! Anche questo l'abbiamo fatto Siamo a 2 Il terzo posto Floch dice che arrivo alle 11.20 Vabbè Ho il caletto Quindi Via 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 Abbiamo 24 minuti di guida adesso Entro in autostrada a Faenza E Ci date la sinistra E poi giù Si esce ancora Nord Che belli che erano i gattini Tanti Tanti Non venivano vicino Stavano lì Come ti avvicinavo e scappavano Ma voglio la mia panna Senza cianchi e neri e senza la codina Non c'è lì Non c'è l'otto Sarà la stessa razza Vabbè A dopo Ciao vai Tenete la destra Poi prendete l'autostrada Il signore Si comincia venuti dalle 14 alle 22 Si prosegue sabato alle 9 alle 16 Domenica come di Consueto Il giorno di Pasqua di 9 alle 22 E poi l'ultimo giorno Bonetì di Pasquetta a 9 alle 22 Fermo le mezze pesate Non c'è lì Grazie mi hanno telefonato, c'è stato un cambiamento di programma, non devo più andare a Falconara, scarico tutto a Sassu, scarico e ricarico a Sassu Ferraro, hanno deciso così. Da una parte mi dispiace che volevo andare a vedere, fare un po' la strada di là, che tanto che non la faccio, però così guadagno un po' sul rientro stasera, non rientro lo stesso, però magari riesco a arrivare alla beva, vediamo, vediamo un po' quanto tempo mi fanno perdere qua a Sassu, e oggi va solo mezzogiorno, mezzogiorno quasi, mezzogiorno e mezzo, ma vabbè, vediamo inizio col quarto d'ora, sono andata per il cappuccino, c'è Lorenzo alla radio, devo ascoltare lui, senti senti, senti, Lorenzo ha fatto un viaggio in Nuova Zelanda, c'è un bel video su Youtube, bellissimi, posti bellissimi, lui si è fatto un giro in bicicletta. 46 al massimo, ce ne andiamo. Allora, usciamo a Marotta, vergola, sasso serrato, flop, vuol farmi passare da Ancona, per andare a Sassu, e mi segna che manca 90 km, 89 km adesso, io se passo di qua mi sembra meno di 60 km, è vero che qua è tutta stradale, tutta, è autostrada, sulle strade, a 30 km quasi di differenza, poi vi dico quante ne faccio, vai? Grazie a tutti. 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 e e e e e e e e Sì, stanno. Non è quasi niste. Non è un'initata. È un'ora e mezzo che sono qua davanti, giustamente hanno fatto pausa pranzo però non fanno ancora entrare nessuno, si è riempito di camion, ne è uscito uno, sono entrati solo quelli che scarica, non lo so, che scarica non ha fatto entrare nessuno, c'è la strada piena, ma adesso stanno arrivando gli operai, ma è strano perché dovrebbe finire l'ora e mezza la pausa, sono 2-4, io da 12-4, prima 12-10, ho quasi sonno, anche qua va a finire male perché mi mangio tutto l'impegno a aspettare fuori, va a finire che non posso neanche andare a tornare in autostrada. Sì, va bene. E devo come va? Io c'è sulla maglietta la felpa, lui davanti a me è a torso nudo, due sono stranieri, non so di dove siano, molto est, nord, nord est, riesco a leggere la targhettina. Sono abituati ad altre temperature, vabbè, ciao, bye, quattro ore, quattro ore per scaricare sei trespoli e caricarne due file di trespoli vuoti, quattro ore, ci rendiamo conto, quattro ore, mi ha detto che mi è già andata bene, come sono messi adesso, buonissimo, adesso io sono già 13 ore di impegno, ora le 15 ore, non ho mai fatto questa settimana, ma non è logica, non è logica, non riesco neanche ad arrivare per lo solito al posto in area di servizio, almeno quello, almeno quello. Grazie. 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 Bio-S Bedeschi. è una guerra tutte le volte grazie mi sono fermata con la Montefeltro sono stata fortunata c'è un signore con un turbostar parcheggiato qua ho visto che era di Ancona gli ho detto ma dormi qua vai via no no a 5 minuti vado via bene 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 si è tirato avanti pure un pochino poi mi è andato mi sono tirato avanti un altro po' e fino a domani mattina di qua non ci muoviamo ci ha messo mezz'ora per farmi la bolla non so ha cambiato il programma quello che c'era lì non lo sapeva usare poi è arrivato un altro ragazzo gli ha spiegato poi ha provato poi non ci ha riuscito poi gliene ha fatto quell'altro insomma mezz'ora per far una bolla disastro oggi siamo a mercoledì sera alla fine tira 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 ho fatto 610 km non ho mica fatto chissà che cosa più le ore buttate via che quelle 14 ore e mezza di impegno e sono dentro nelle 9 ore di guida comunque credo lo fa i conti vabbè comunque non le ho mai fatte anche se le ho sforato le 9 ore non fa niente perché le 10 non le ho mai fatte domani vado a casa vado a casa faccio una consegna quello che ho ritirato qua e poi se c'è da fare del locale al pomeriggio e poi ce ne andremo a casino ciao bye per oggi vi saluto sentiamo domani per il quarto giorno della settimana che vinto vabbè ciao